PEGI 7 Sorpresa! Sono io, Chaos, a un passo dal potere assoluto! Pronto a... Danzare? Me la pagherete, caro Skylander! Sono tornato! Più cattivo che mai! Ah, sì! Intiratevi al mio passaggio solenne! Ecco a voi gli Skylanders Swap Force! 256 combinazioni possibili! La scelta è il tuo nuovo potere! Intercambiabili! Inarrestabili! Skylanders Swap Force! Un bambino, eh? Ora il pannolino è pieno di malefici! Ah! 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 Ah!